In collaborazione con il Centro BIOS è una realtà all'avanguardia nel panorama medico-specialistico delle Marche. Oltre al laboratorio privato per analisi di ogni tipo a Castelfidardo, è in funzione il Centro Poli Specialistico BIOS Center di Osimo, che offre prestazioni sanitarie, strumentali e ambulatoriali per ogni esigenza, coprendo più del 90% delle branche specialistiche, senza liste d'attesa. La BIOS ha ottenuto l'accreditamento di eccellenza dalla Regione Marche, la più alta classe di merito, a testimonianza della qualità ed efficienza di tutti i servizi offenti. La BIOS è a Castelfidardo, in via Donizetti 2, ad Osimo il Centro Poli Specialistico, in via Ticino 20. Eidis SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Eidis è costruzione edile, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Eidis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Eidis SRL, via Fratte 10, Osimo. Eidis SRL, via Fratte 10, Osimo. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento di Canale Salute. Questa sera parleremo di medicina cardiovascolare e medicina respiratoria. E lo faremo con il contributo dei nostri graditi ospiti che sono già presenti in studio. Abbiamo con noi il professor Riccardo Sarzani, direttore della Clinica di Medicina Interna e Geriatria, Clinica Universitaria, Università Politecnica delle Marche, convenzionata con l'ospedale IRCA Ancona, e responsabile anche del Centro Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardiovascolari presso gli ospedali riuniti di Ancona. Buonasera, professore. Buonasera. E poi abbiamo con noi il dottor Corrado Iacoacci, pneumologo della Clinica di Medicina Interna e Geriatria all'IRCA di Ancona. Buonasera, dottore. Buonasera. Ecco, questa sera gli argomenti che toccheremo saranno diversi. Parleremo delle malattie cardiovascolari, dell'ipertensione, della dislipidemia, della broncopneumopatia cronico-ostruttiva e dell'apnea notturne. Allora, professor Sarzani, le malattie cardiovascolari sono responsabili ogni anno del maggior numero di decessi negli Stati Uniti e in Europa. Ecco, ma quali sono le principali malattie cardiovascolari? Le malattie cardiovascolari sono tante e differenti fra loro. In genere le più note sono quelle che interessano il cuore, come l'infarto del miocardio e il cervello, come l'ictus ischemico o di altro tipo, come quello emorragico. Ma anche le malattie delle arterie, delle gambe, degli arti inferiori, ma anche le malattie renali possono essere dovute proprio a un danno dei vasi sanguigni, cioè del circolo. Ecco perché si chiamano malattie cardiovascolari. A sottintendere l'importanza dei tubi che portano il sangue ai vari organi, che quando si danneggiano e si ammalano portano a tante malattie. Ecco, professor Sarzani, ma quali sono i principali fattori di rischio che portano allo sviluppo di questa malattia? I principali, senza dubbio, tra le prime cose c'è appunto l'ipertensione arteriosa, una pressione sanguigna troppo alta, inappropriata per come siamo fatti. Anche valori non clamorosamente elevati possono portare a gravi danni, ma poi c'è il colesterolo, che può essere troppo alto, il fumo di sigaretta, l'obesità, il diabete mellito e tante altre cose ancora. Come si può fare prevenzione per evitare lo sviluppo di malattie cardiovascolari? Questa è la parola chiave, prevenzione. Abbiamo ospedali pieni di persone che potevano essere sane se avessero fatto prevenzione. Se ne parla troppo poco, perché è faticoso parlare di prevenzione, spiegare alla gente che sta bene, che se vuole stare bene anche in un futuro deve fare qualcosa, per la pressione, per il colesterolo, per smettere di fumare e per tante altre cose ancora. Prevenzione è veramente la parola chiave. E quali sono le indagini indispensabili da fare a tale proposito? Per sapere se una persona ad esempio è ipertesa, basta semplicemente misurarsi la pressione arteriosa con un apparecchio valido, validato, di quelli che si comprano anche in farmacia, ad esempio di marca buona, e uno se la può misurare anche a casa, conoscendo quali sono appunto i valori della pressione arteriosa, normali o elevati. A casa, per esempio, già 135 di pressione sistolica in millimetri di mercurio è un indice di ipertensione arteriosa, quindi è più bassa della pressione dal medico, che è da 140, uno è considerato iperteso. Ecco, ma la pressione alta, professore, perché è pericolosa quindi, ce lo vuole dire? È pericolosa non tanto in acuto, come pensano molte persone che si immaginano come se fossimo una pentola a pressione che a un certo punto scoppia. È pericolosa perché negli anni anche pochi millimetri di mercurio sopra la norma determinano un danno proprio a tutti i tubini, che si chiamano arterie, che sono piccoli tubi, più o meno piccoli, che portano il sangue al cuore, al cervello, al rene. Ecco perché negli anni si rovinano quando la pressione è alta. Ecco, ma i fattori che possono portare allo sviluppo della pressione alta quali sono, professore? Molti fattori sono ereditari, sono genetici. L'ipertensione arteriosa essenziale, quella comune, quella che ha tantissima gente, in genere corre in famiglie e sono più geni che determinano la pressione. Chiaramente poi mangiare cibi troppo salati, con tanto sale dentro, avere una vita troppo sedentaria ed altri fattori ancora, inclusa l'obesità, portano a peggioramento dei valori pressori. Ecco, ma le indagini da fare per valutare meglio anche un paziente con ipertensione arteriosa quali sono? Una tra tutte fondamentale è quello che è il monitoraggio pressorio delle 24 ore. È un piccolo apparecchio che si può indossare senza nessun disturbo che automaticamente misura la pressione ogni 15 minuti di giorno, ogni 20 minuti di notte. Viene erroneamente chiamato holter pressorio, ma preferibile non chiamarlo così perché si fa confusione con l'holter vero che è quello elettrocardiografico per vedere come va appunto l'elettrocardiogramma nelle 24 ore. Ecco, una persona può considerarsi ipertesa quando, professore? Se va dal medico e il medico gli trova una pressione sistolica di 140, con sistolica si intende la pressione quella che viene comunemente definita massima. da 140 in su e o una pressione diastolica da 90 mm di mercurio in su, in effetti già è da considerarsi iperteso. Ma magari, siccome qualche volta l'emozione fa aumentare un pochino la pressione, ecco perché noi consigliamo la misurazione anche a domicilio della pressione arteriosa, ricordando che già 135 di massima è ipertensione. E quali sono, professore, le novità terapeutiche per l'ipertensione arteriosa? Ma ce ne sono tante, sicuramente sono tutti farmaci comprovati a essere salva vita, nel senso che prolungano la vita e uno evita l'ictus, l'infarto e molte altre cose. Sicuramente le novità degli ultimi tempi sono le associazioni, nel senso che in un'unica compressa esistono due diversi farmaci, o anche tre diversi farmaci, che insieme permettono di controllare benissimo la pressione quasi a tutti. Ecco, una volta che una persona ha iniziato la cura, la deve continuare per sempre? Questa è una domanda molto comune, che però viene da rispondere qualche volta un po' sorridendo, nel senso che l'ipertensione in genere purtroppo non va via da sola, anzi negli anni tende a peggiorare, quindi il problema non è la terapia, il problema è l'ipertensione, che porta a morte premature e a gravi danni, incluse la demenza, ad esempio. Quindi è chiaro che la terapia è il vero amico dell'uomo, più del cane. E quale dieta deve seguire una persona ipertesa, professore? La dieta è anche importante, in alcuni casi la pressione riesce a scendere di molti millimetri di mercurio, se si perde l'eccesso di peso, se si evitano i cibi troppo salati, ad esempio viene sempre in mente, come esempio, gli inzaccati, i salumi, i formaggi, ma la moda dell'aperitivo per l'ipertesa è una tragedia, perché oltre a tanti snacks malati e salati, si ingerisce anche una notevole quantità di alcol. Ecco, bene, professore, dottor Iacoaccio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la broncopneumopatia cronica ostruttiva è la quarta causa di morte negli Stati Uniti ed in Europa. Ecco, vogliamo dire che cos'è la broncopneumopatia cronica ostruttiva? La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia cronica, come dice la stessa definizione, è caratterizzata da un'ostruzione persistente al flusso aereo attraverso i bronchi e questo flusso aereo è, per la maggior parte delle volte, non reversibile nella sua ostruzione o parzialmente reversibile con terapia. Questa malattia è cronica e cronicamente progressiva, soprattutto se continua l'esposizione a particelle di gas nocive o a fumo di sigaretta. È previsto che, sempre dall'OMS, entro il 2020 diventi la terza causa di mortalità. Ah, caspita, ecco, quindi è bene smettere di fumare innanzitutto, ecco, diciamolo questo, giusto? Sicuramente la principale terapia per la bronchite cronica ostruttiva è smettere di fumare. Ecco, ma quali sono i sintomi di questa malattia? Una persona come se ne accorge? Solitamente il primo sintomo che il paziente accusa è un'eccessiva produzione di muco, quindi un'eccessiva espettorazione fino ad arrivare ad una dispnea, quindi una difficoltà nella respirazione, da prima durante lo sforzo fino ad una difficoltà respiratoria anche al riposo. Ecco, oltre al fumo, dottore, quali sono le altre cause che possono portare allo sviluppo di questa malattia? Adesso va molto di moda il concetto della biomassa, ovvero l'inquinamento atmosferico, soprattutto perché con le difficoltà economiche che noi tutti incontriamo, soprattutto anche con l'aumento della combustione di materiali plastici e materiali non convenzionali per il riscaldamento, soprattutto per il riscaldamento globale, andiamo incontro a questo aumento della pollution atmosferica e quindi la biomassa contribuisce allo sviluppo di BPCO. Ecco, una cosa molto importante, appunto dicevamo, è smettere di fumare, ecco. E comunque ci si può rivolgere ad un centro antifumo. E quali prestazioni svolge questo centro antifumo e dove si trova? Il centro antifumo lo troviamo presso il nostro ambulatorio di pneumologia all'IRCA e con la stessa impegnativa il medico di medicina generale può richiedere diverse prestazioni che noi forniamo a partire dalla spirometria fino ad arrivare all'emogas analisi arteriosa, una radiografia del torace e un'attività di counseling da parte di una nostra fisioterapista. Ecco, ma la broncopneumopatia cronico-struttiva viene diagnosticata, quindi facendo questi esami che lei ora ha detto? Semplicemente così come quando uno va dal medico di medicina generale dovrebbe sempre misurare la pressione, sarebbe utile o in quanto più che utile auspicabile poter fare una semplice spirometria. Quindi l'esame fondamentale per fare la diagnosi di bronchite cronico-struttiva è la spirometria. Ecco, ma perché questa malattia, dottore, è sottodiagnosticata? Questo perché quando andiamo dal medico di medicina generale non facciamo la spirometria, chiaramente è molto difficile questo. E prima che arrivano i sintomi passa molto tempo e la malattia è già in una fase moderata o severa. Ecco, ma come si può curare questa malattia? Ci sono delle novità terapeutiche? Sicuramente sì, sia sull'ambito della farmacologia tradizionale. Adesso soprattutto stiamo vivendo l'avvento di farmaci che vengono somministrati una sola volta al giorno, quindi con una durata di 24 ore e arriveranno molte novità anche nell'ambito di terapie cosiddette biologiche. Ecco, ma come si può rallentare il decorso di questa malattia? E ecco, ci sono, tra l'altro, prevenire magari complicazioni che si possono sviluppare? Come dicevamo prima, il primo intervento da fare è smettere assolutamente di fumare. Dopodiché l'attività fisica sembra essere l'unica terapia in grado di modificare la storia naturale della malattia, anche perché i farmaci ci permettono sicuramente di controllare i sintomi, ma non possono modificare la storia naturale di questa malattia. Ecco, una persona affetta da questa malattia, in quali casi è bene che si rivolga subito al pronto soccorso? Può capitare che la diagnosi la facciamo non in ambulatorio di medicina generale o non dallo specialista pneumologo, ma proprio al pronto soccorso, proprio perché quando il paziente accusa i primi sintomi, questi sono sintomi di una certa gravità. Ecco perché è portata a rivolgersi al pronto soccorso. Bene, ecco. Dottore, vogliamo dire che cos'è la dislipidemia? La dislipidemia è un termine un po' complesso che molta gente in effetti non sa bene quale sia il significato di questa parola, di questo termine. Significa che i grassi che circolano nel sangue, in particolare il colesterolo, i trigliceridi, oppure il colesterolo buono, quello chiamato HDL, non sono appropriati per la condizione di salute del paziente. Che tradotto vuol dire, a parte i valori di colesterolo molto alti, che tutti si accorgono che non vanno bene, ma i valori possono anche essere nella norma di laboratorio, eppure essere troppo alti per una persona, ad esempio, che abbia già avuto un infarto o che abbia un problema di placche di aterosclerosi nelle arterie, ad esempio carotidi o le arterie delle gambe. Quindi anche se il profilo lipidico e i livelli di colesterolo sono normali, sono persone che hanno necessità di ridurre il colesterolo fino a valori bassissimi per evitare grosse complicazioni, nuovi infarti ed altre patologie appunto cardiovascolari. Ecco, quindi i rischi che comporta appunto sono patologie cardiovascolari? Esattamente, è uno dei più importanti fattori, secondario probabilmente soltanto alla pressione elevata, come causa di mortalità, proprio anche a livello mondiale. Ricordo che la pressione, l'ipertensione arteriosa, è il primo fattore di rischio di morte al mondo. Il primo, quindi la gente ha paura magari di morire di ebola, del virus ebola, ma in realtà si muore soprattutto al mondo di ipertensione arteriosa. Ecco, quali sono le cause della dislipedemia e si può prevenire, professore? Le cause anche qui sono molto spesso familiari, c'è una componente genetica che è più importante di quella alimentare. Chiaramente se poi uno eccede, il peso aumenta o viene il diabete, sono tutte condizioni che peggiorano fortemente i livelli di grasso che circola nel sangue e possono quindi contribuire al peggioramento della stessa. Sono un po' le cose che tutti sappiamo, chi è che non sa che oggi bisogna mangiare sano, mangiare di meno e fare attività fisica. Tutti lo sappiamo, poi magari è più difficile metterla in pratica. Ecco perché il ruolo del farmaco è fondamentale, perché sono stati testati in decenni di studi clinici e sappiamo che grazie anche ai farmaci che riducono il colesterolo si vive di più e soprattutto più sani. Bene, ora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco. Wow, che si festeggia! E dai, ancora non lo sai? Il centro scarpa che si è evoluto d'ora in poi si chiama JoMod. E certo, JoMod a Monsano ha una vastissima esposizione di calzature, anche per i più esigenti. Uno store di grinta che appaga per qualità e convenienza sulle calzature per tutta la famiglia e per le personalità più originali e di tendenza. Linee per uomo, donna, bambino, anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Sono presenti le firme più prestigiose. La moda è un gioco. JoMod, shoes fashion style, per giocare sul serio, su qualità e convenienza. A Monsano, Ancuna.